la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa andiamo a guardare insieme i principali fatti di oggi iniziamo con la prima pagina del mattino il titolo di apertura tagli agli investimenti il prezzo più alto al Sud la scure annunciata dopo l'accordo con l'Unione Europea finirà per ridimensionare gli investimenti e il prezzo più caro sarà il Sud a pagarlo le imprese il rilancio promesso non ci sarà il macigno della reintroduzione delle clausole di salvaguardia rialzo IVA e accise nel 2020 e 2021 bufera in Senato esautorati sempre di taglio alto oggi in Consiglio dei Ministri autonomia del Nord primo sì il regalo a Lombardia e Veneto oggi appunto sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci sarà un primo documento sull'autonomia non solo del Veneto ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna festeggiano per il regalo i governatori delle regioni interessate poi il retroscena TAV no dei commissari lo stop costerebbe 3 miliardi e Toninelli deve frenare di lato le idee due proposte per evitare il flop del reddito e poi l'analisi se i 5 stelle scoprono la piazza contro di taglio alto di lato lo scenario infatti dall'estero Siria l'addio degli Stati Uniti un favore alla Russia si scrive ISIS ma si legge Russia e Iran l'annuncio del presidente Donald Trump che verranno presto ritirati 2 mila militari statunitensi schierati in Siria orientale sta suscitando un vivace dibattito a cominciare proprio da Washington dove il Pentagono sta cercando di dissuadere il presidente poiché ritiene che la campagna militare contro i giadisti richieda ancora sforzi militari Centropagina il caso Ilaria Esposito di Torre del Greco 26 anni da 8 nel partito il PD dice è diventato un risico di potere i giovani considerati solo per i selfie e ancora centropagina furti di identità il record di Napoli 6 truffe al giorno appunto se ne fanno a Napoli se ne fanno 6 al giorno 1.758 sono quelle denunciate in campagna nei primi 6 mesi del 2018 in testa della poco edificante classifica a fare queste stime la CRIF la società che gestisce la principale gestione rischi per le banche in Italia rubati finanziamenti per 5 milioni in 6 mesi e poi il terrorista in fuga l'Italia ai legali di Battista non trattiamo la polizia brasiliana ha provato a intavolare una trattativa con gli avvocati per la resa di Cesare Battisti ma l'Italia avverte non trattiamo di taglio basso l'allarme i templi di Pestum a rischio per il cambiamento del clima il direttore danni dalle piogge torrenziali l'intensificarsi di fenomeni meteo estremi possono avere sul tempio di Nettuno costruito 2.500 anni fa dai coloni greci di Pestum effetti assai dannosi l'allarme è stato lanciato dal direttore del parco archeologico Zuckrigel il degrado dice molto avanzato in un breve arco di tempo segno che a mettere a rischio i monumenti della Magna Grecia sono i cambiamenti climatici e poi l'annuncio sorpresa a Pompei spunta un altro teatro del quarto secolo un teatro appunto del quarto secolo quando nella cittadina campana arrivarono i sanniti nuovi scavi hanno rivelato la presenza alle spalle del teatro del secondo secolo avanti Cristo di una cavia naturale e questa era la prima pagina del mattino spostiamoci su la prima pagina del mattino di Salerno l'apertura SOS dispersione all'unifantasma anche alle medie l'allarme nei rioni collinari del capoluogo frequenze a singhiozzo poi l'abbandono a rischio 100 studenti tra gli 11 e i 14 anni mancata frequenza alle lezioni assenze prolungate abbandono definitivo della scuola nelle scuole del salernitano c'è chi non va più a scuola ancora prima di compiere il salto alle superiori ma preoccupare è che ci sono studenti quartieri a rischio che non riescono nemmeno a concludere la scuola media tra Salerno e provincia ci sono almeno 100 studenti tra gli 11 e i 14 anni che non frequentano le lezioni nella scuola secondaria di primo grado il fenomeno non risparmia il capoluogo dove sono segnalati alunni a rischio nei quartieri delle zone collinari centro pagina lo sport con la foto notizia il calcio recissione con la FIGC contratto fino al 2020 salernitana non vedo l'ora inizia l'era del Gregucci ter possiamo fare grandi cose il personaggio fame in campo e voglia di rivingita di lato l'ambiente rifiuti riapre l'impianto può salvarci dal caro tari potrebbe essere una delle strategie da seguire per scongiurare l'aumento della taria rispetto dell'aumento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti allo stir di battipaglia ma prima bisognerà portarlo a regime intanto l'impianto di compostaggio di Salerno sta ripartendo poi l'economia De Luca battipaglia città strategica per lo sviluppo il governatore ne è sicuro battipaglia non può essere strategica per lo sviluppo della campagna ieri mattina durante l'inaugurazione dei nuovi uffici della sede dell'Inps il presidente ha avuto parole di elogio per la città ci sono le condizioni per creare una grande stagione di sviluppo De Luca ha visitato la palazzina sorta nell'ambito dei lavori del più Europa centropagina il caso ordine degli avvocati Montera sfida la Cassazione mi ricanditerò le sentenze le rispetto quando sono scritte bene in questo caso credo sia tutto molto confuso io sono già da tempo in campagna elettorale una lista pronta con ben 20 nomi importanti Amerigo Montera presidente dell'ordine degli avvocati di Salerno non farà alcun passo indietro nonostante le sezioni unite della corte di Cassazione abbiano sancito la regola della ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi regola che dovrà valere anche per coloro che hanno svolto il mandato elettorale antecedentemente al 2017 e poi l'accoglienza degli immigrati processate il prefetto Malfi il sostituto procuratore Davide Pretti ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex prefetto di Salerno Salvatore Malfi coinvolto in un'inchiesta quando era in servizio a Vercelli sul settore della spesa pubblica legata alla gestione dei flussi migratori una delle accuse era l'abuso d'ufficio per essersi rivolto ai dipendenti della prefettura vercellese con espressioni ingiuriose anche a sfondo sessista umilianti e denigratori utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori e minacciandoli persino di morte di taglio basso doni di Natale vincono i negozi virtuali lo shopping il fenomeno acquisti sul web per 5 miliardi dunque il web il negozio virtuale preferito dai salernitani per gli acquisti natalizi in linea con quella che è una tendenza nazionale lo riferisce in un'indagine demoscopica trovaprezzi.it il comparatore di prezzi online leader in Italia la corsa ai regali è già partita da metà novembre in concomitanza con il break friday anche se la caccia all'oggetto desiderato al prezzo più conveniente grazie alle spedizioni immediate garantite da alcuni siti continuerà fino alle prossime ore già l'anno scorso tra novembre e dicembre oltre 12 milioni di italiani hanno scandagliato le migliaia di offerte alla ricerca di idee spunti risparmio il tutto con un totale di 45 milioni di ricerche e questa era la prima pagina del mattino di Salerno andiamo a vedere la città il titolo di apertura treni soppressi e in ritardo rabbia pendolari dossier sull'orario invernale treni Italia polemiche infondate c'è chi vorrebbe le corse a proprio piacimento e De Luca battipaglia due fermate per l'alta velocità e nuovo sovrappasso ferroviario centro pagina lo sport Salernità nel tecnico affermato Gregucci ricomincia da tre poi il caso Cavese d'aspo per tre tifose Salerno Spalti Arechi 38 mila sediolini di lato l'investimento lottizzazione amato da nuve l'almolino poi le infrastrutture porto senza dragaggi disdetta grandi navi e la sentenza Pisano la Cassazione sconfessa la procura e ancora Angri la moglie del boss non è pentita no alla protezione eboli shock proiettile al municipio telecamere out di taglio basso l'area archeologica di Pestum templi una colletta anticrollo servono 100 mila euro per acquistare i sensori per le antiche strutture e cambiamenti climatici insieme alle vibrazioni quasi impercettibili del treno che passa oltre un chilometro di distanza possono minacciare la sopravvivenza del tempio di Nettuno a lanciare l'allarme il direttore Zuckrigel e infine Lamar Cord Peppiniello di miseria e nobiltà oggi a fratte spostiamoci ora su cronache l'apertura ordine degli avvocati Montera sfida la Cassazione mi candido sancita la regola della ineleggibilità perché ha svolto due mandati consecutivi ma lui dice rispetto le sentenze scritte bene di taglio alto Ponte Cagnano inchiesta Attanasio ora e l'ora dei politici di lato ufficializzato Gregucci tecnico caso Rossi Fabiani denuncia Pisano e Guariglia invita a disertare la Rechi il caso Salerno il comune spegne la musica salve le pescherie di taglio basso Capaccio e scontro all'ultimo sangue Fasolino difende la chiesa gli avversari lo attaccano sentenza sulla cava Paolino questa è la prima pagina di cronache andiamo sul Roma che apre con la sanità ex luccioni c'è la cordata lucana per la clinica finalmente uno spiraglio di luce dopo le pesanti vicende che hanno di fatto paralizzato la sua attività Enzo Basentini esce allo scoperto riassumeremo tutti i dipendenti sotto la testata Lago Negro da vent'anni si attende il nuovo ospedale intanto continua lo smantellamento di quello già esistente dismessi pneumologia dei ospital oncologico ortopedia eppure ginecologia centro pagina lo sport potenza calcio Raffaele prova nuovi schemi per mandare in gol Bomber Franza la casertana non ha una difesa irresistibile poi la serie D rotonda scatenato sul mercato la cura di Patron Bruno per la salvezza e sei giocatori in sei giorni di lato potenza la will attacca in comune i lavoratori aspettano da 12 anni la progressione ora basta è troppo poi il caso nigeriano 28enne scappa in Lucania perseguitato da una setta sarà espulso matera matera tentarono una rapina alla gioielleria bungaro confermati otto anni di carcere alla banda e igiene ambientale per i 30 dipendenti di Pignola e Maratea niente stipendio e beffa tredicesima di taglio basso le guardie mediche indennità tutti assolti per la corte dei conti l'ex giunta De Filippo ha agito correttamente cadono tutte le accuse e infine disabilità Santarsiero al convegno al di là del limite dice intervenire con l'osservatorio regionale in maniera sistemica e questa era la prima pagina del quotidiano Roma con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche istante di pubblicità bentornati in studio andiamo a sfogliare le pagine del mattino iniziamo con il regionalismo differenziato autonomia il primo sì nord in festa che regalo il governo oggi bara lo schema per Veneto Lombardia ed Emilia Zaia si scrive una pagina storica e Fontana tempi rapidi per la legge andiamo a vedere alle 15 di oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci sarà un primo documento sull'autonomia rafforzata non solo del Veneto ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna non sarà ancora il testo di legge quello che dovrà passare alla Camera e al Senato per un sì o un no secco senza possibilità di emendamenti ma sarà uno schema preliminare un documento messo a punto dal Ministro delle Autonomie Erika Stefani più politico che tecnico utile a incardinare la materia senza però sciogliere nessuno dei nodi sui quali una parte dei 5 Stelle tra cui spicca il leader Luigi Di Maio mantiene forti perplessità ma Giorgetti avvisa i 5 Stelle come noi votiamo il reddito ora ci aspettiamo il loro via libera e i maggiori poteri riguardano 23 materie tra le quali sanità e istruzione e poi c'è il nodo delle risorse Lasciamo questa pagina Passiamo a Salerno con la questione ambiente e rifiuti Riparte l'impianto può evitare gli aumenti dell'Atari il sito di compostaggio riaperto dopo i problemi rilevati dall'ANAC Caramanno quando sarà a regime ci farà risparmiare sui conferimenti potrebbe essere una delle strategie da seguire per scongiurare l'aumento dell'Atari a dispetto dell'aumento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti allo stir di Battipaglia ma prima bisognerà portarlo a regime intanto l'impianto di compostaggio di Salerno sta ripartendo ad annunciarlo l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno che tuttavia parla di prove è un periodo fatto di verifiche e controlli a macchine accese per testare il funzionamento dell'impianto e capire se una volta a regime sarà in grado di rispettare tutte le prescrizioni necessarie e operare senza sbavature abbiamo cominciato con i conferimenti spiega l'assessore e naturalmente quando si parla di conferimenti di spazzatura si parla della frazione umida dunque prove e verifiche poi ogni settimana più spazzatura è l'assessore ma ora i cittadini ci aiutino con la differenziata rimaniamo su questa pagina Arechi Multiservice salva dal fallimento debiti per 1,3 milioni paga la provincia la società pubblica fa manutenzione in strade e scuole trovati fondi anche per gli istituti di Cava e Amalfi dunque Arechi Multiservice verso il rilancio ieri l'approvazione in consiglio provinciale del bilancio della società in house che si occupa della manutenzione di strade e scuole per gli oltre 100 lavoratori il futuro si fa quindi meno incerto dopo l'accordo sul contenzioso che consentirà di ripianare le perdite e rimettere in bonus la partecipata fiduciosi anche i sindacati seppur con qualche riserva dopo l'approvazione del bilancio di ieri dunque si chiude inutile si dà il via libera e il consiglio ha dato mandato al presidente alla firma della transizione per il risanamento della mole debitoria della società abbiamo previsto la copertura di 400 mila euro nel bilancio spiega il presidente Michele Strianese mentre gli altri 900 mila sono stati riconosciuti quali debiti fuori bilancio e andiamo avanti rimaniamo sempre su Salerno e provincia con la scuola allarme dispersione anche alle medie 100 alunni fantasma frequenze saltuari e poi abbandono a rischio gli studenti tra gli 11 e 14 anni fenomeno diffuso in provincia e nei rioni collinari del capoluogo mancata frequenza alle lezioni assenze prolungate abbandono definitivo nelle scuole del Salernitano c'è chi non va più a scuola ancora prima di compiere il salto alle superiori ma preoccupare è che ci sono studenti in quartieri a rischio che non riescono nemmeno a concludere le scuole medie tra Salerno e provincia ci sono almeno 100 studenti tra gli 11 e 14 anni che non frequentano assiduamente e nei tempi previsti le lezioni della scuola secondaria di primo grado il fenomeno non risparmia neppure il capoluogo sono segnalati alunni a rischio anche in quartieri delle zone collinari come Giovio e Gliara Matierno in provincia la situazione è ancora più allarmante i dati arrivano da un'analisi dell'ufficio scolastico regionale su un campione di almeno 3.700 ragazzi iscritti alle scuole medie del Salernitano è il progetto promosso dalla francese segnalazione dei ragazzi assenti poi procedure per il recupero andiamo avanti spostiamoci sull'agronocerino sarnese nocera inferiore monte vescovado lager pronti 10 milioni per riaprire i cantieri il commissario IACP libera l'area dalle ipoteche delle banche turquato annuncia 50 alloggi ultimati entro tre anni svolta attesa da anni per il rione ghetto con decine di famiglie in case fatiscenti gli scheletri di cemento non saranno abbattuti pagani droga alla lamia insospettabile preso con coca e crack negli slip e poi cava dei tirreni tennis club servalli sigla d'accordo debiti rateizzati e un nuovo contratto sarno masseria della cavorra 1,5 milioni per il museo scafati caos rifiuti e illuminazione il bilancio dei commissari mercato sanseverino furti d'auto e ricettazione condanne per 10 anni angri fatture false ed evasione in 5 rinviati a giudizio andiamo ora a battipaglia De Luca sviluppo qui il vero polo il governatore al cantiere del centro d'inderscambio faremo uno sforzo per il tunnel e per l'alta velocità incontri con gli operai treofane gli ecologisti sito rifiuti controlli sulle emisione ambientali campagna morte sulla A2 drug test e autopsia effettuate le analisi sui due conducenti che hanno investito il 42enne di Palomonte fresolone tornava dal lavoro a battipaglia Ponte Cagnano Faiano il sottopasso resta chiuso ultimatum all'Enel e poi Eboli guerra dei miasmi scatta il monitoraggio Eboli passaggio a livello RFI impianti ben funzionanti Santa Marina lotte artigianali contesi il tribunale li sequestra e infine Vallo della Lucania paura in ospedale paziente tenta di lanciarsi dal tetto queste erano le pagine del mattino andiamo a vedere che cosa succede a Lago Negro sul piano della sanità andiamo sul quotidiano Roma Lago Negro da 20 anni si attende il nuovo ospedale da 70 milioni intanto chiude quello vecchio dismessi pneumologia ortopedia dei ospital oncologico ostetricia e ginecologia e vediamo al netto dell'infinita querelle sull'avvio dei lavori per il nuovo centro per acuti da realizzare in località Tempone Rosso che al momento resta e probabilmente resterà un miraggio uno slogan bacuo e inutile nubi fosche e grigie si stanno addensando pure sul vecchio nosocomio San Giovanni che sorge nel centro del paese in pieno centro abitato che da anni necessita di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e che da progetto finanziato con fondi regionali per circa 13 milioni di euro complessive avrebbe dovuto essere oggetto di un profondo restyling per renderlo funzionale alle esigenze dell'utenza e degli operatori fin anche adeguandole alle attuali normative di settore ma a Lago Negro si discute della legge di riordino sanitario e concreto pericolo di chiusura dei reparti di pneumologia ortopedia dei ospital oncologico ostetrice e ginecologia anche alla luce degli inadempimenti emersi nell'elaborazione dei dati statistici incompatibili con le soglie minime per il mantenimento questa la situazione dell'ospedale di Lago Negro e così termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per la cortese attenzione vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti